Entrerà in vigore sabato 21 novembre l'ordinanza anti-assembramento firmata oggi dal presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli. Il provvedimento stabilisce l'obbligo di indossare la mascherina al di fuori dell'abitazione, ad eccezione dei bambini di età inferiori a 6 anni, di chi svolge attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione. Si dovranno evitare le feste in casa, mentre nelle scuole elementari e medie sono sospese le lezioni di canto, di strumenti a fiato e di educazione fisica al chiuso, se non è possibile rispettare la distanza interpersonale, di almeno due metri. Disposizioni previste anche per il commercio, i clienti devono rimanere il tempo necessario per l'acquisto delle merci. Dopo le 16 è vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su aree pubbliche o private aperte. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze delle attività. Inoltre, gli esercenti delle grandi e medie strutture di vendita dovranno garantire gli accessi contingentati tenuto conto delle dimensioni dei locali. Alcune novità sono previste anche per il mercato cittadino all'aperto, dove i clienti potranno recarsi al banco uno alla volta, mentre i distributori automatici di alimenti confezionati e bevande potranno rimanere aperti dalle 5 alle 22, a condizione che si osservi il divieto di assembramento e la sanificazione degli ambienti almeno due volte al giorno. Infine, la vendita d'asporto è consentita anche senza prenotazione, ma è fortemente raccomandata la vendita con consegna a domicilio. L'ordinanza potrà essere modificata o revocata in base all'andamento della situazione epidemiologica e dell'indice di contagio RT.